È il giorno della protesta della comunità studentesca che scende in piazza, convocata dal coordinamento regionale Udu l'Aquila, Teramo, 360 gradi, Chieti, Pescara, più di 100 giorni dal termine di legge per il pagamento della prima rata delle borse di studi universitari. 2.343 studenti e studentesse non hanno ricevuto un euro e affrontano in tutta la regione grandi sacrifici per cercare di non essere costretti a far rinuncia agli studi. All'Aquila ci sono anche diversi studenti internazionali che arrivano dall'Africa, che o sono i doni non beneficiari o a causa dei ritardi nella riapertura della Campomizia, inizio anno accademico, sono illegittimamente considerati studenti in sede e quindi con borsa di studio dimezzata, studenti che da settimane denuncia l'Udu non mangiano, mangiano una sola volta al giorno perché non possono permettersi il secondo pasto. In tutto questo però Lazio ha diffuso una nota, il nuovo direttore Paola Di Salvatore ha convocato le associazioni oggi per discutere di tutto, comprese borse di studio. L'ente onorerà il discorso delle borse di studio, questo ha dichiarato almeno il presidente Eliana Morgante e il confronto avviato con gli studenti oggi vuole essere un appuntamento fisso e strutturato. Noi chiediamo innanzitutto la totale risoluzione dei problemi sia amministrativi che gestionali, chiediamo che le borse di studio vengano erogate tutte e che la soluzione dei contratti dei ragazzi della Palazzina C venga trovata perché è impossibile che degli studenti che vengono da La Ligeria risultino in sede. Ecco, voi protestate ma sono mesi insomma, questo confronto con l'Azio che loro dicono vogliono far diventare strutturato, come lo vedete? Noi lo vediamo sicuramente come un inizio di comunicazione e di un inizio di un rapporto, speriamo che sia duraturo e che ponga le basi per un qualcosa di costruttivo.